Con una delibera approvata dall'Aggiunta regionale, riparte la campagna dedicata agli studenti per gli abbonamenti gratuiti ai mezzi di trasporto. L'iniziativa, che attiva dal 2016, si configura come uno degli interventi più qualificanti messi in campo dall'amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie, che sostiene il diritto allo studio e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico. Sono oltre 130.000 le richieste che vengono effettuate ogni anno e da fine agosto, sul sito di Unico Campania, sarà possibile presentare le nuove richieste per l'anno 2023-2024. Lo studente che ne fa richiesta ed è in possesso dei requisiti avrà un abbonamento Casa Scuola Università utilizzabile solo nei giorni feriali, valido per tutto il periodo scolastico fino al 31 luglio 2024.